La domanda che voglio fare a Gianni Riotta è molto importante invece. Dopo vent'anni è come se l'Italia ancora facesse fatica a fare serenamente i conti con la figura di Craxi. È uscito un bel libro di Miguel Gotorda in Audi che fa la storia dell'Italia del Novecento. Noi non facciamo mai pace col passato, non sappiamo mai assegnare al passato. Ci sono colpe, ci sono vittime, ci sono però grandi responsabilità. I leader storici sono contraddittori, i leader storici non sono luci e ombra. Nessuno, se vai a rileggere i grandi leader, il Churchill, il Roosevelt, hanno un sacco di problematiche anche loro. Noi non faremo mai pace. È chiaro che oggi Craxi lo dovrebbe poter trattare. C'è stata una bellissima intervista di suo figlio Bobo, mi pare a Repubblica, in cui ha raccontato. Gianni Amevio è molto bravo come regista, io ancora non ho visto il film, ma mi fido molto di Gianni. Quando dice, sentivo un'intervista tua, dobbiamo raccontare un personaggio. È chiaro che Craxi ha fatto dei grandi errori e li ha pagati, a contrario di altri leader politici, li ha pagati in prima persona. È chiaro che ha fatto delle grandi innovazioni nella sinistra italiana, ma è chiaro che oggi noi possiamo dare un giudizio storico su Bettino Craxi che non sia disumano come quelli che sono stati dati ancora recentemente su qualche giornale, in cui Cesare viene ucciso dai congiurati, va bene? Però qui noi abbiamo i congiurati che vent'anni dopo che Cesare è morto vanno a dare sul cadavere un'ennesima coltellata per dire, vedi, anche da morto. Invece il giudizio di Craxi qual era? Craxi è stato un protagonista della guerra fredda e la sua caduta è stata anche dovuta alla fine della guerra fredda. Ha provato a innovare la sinistra italiana, non c'è riuscito. Ma le pulite come comporte. Per l'amore che ti voglio, non vengo più a tua trasmissione, dove come tu sai, in tantissimi anni in cui sono venuto non ho mai interrotto nessuno. E la grande serenità è che anche quando sento delle asininità clamorose, asininità clamorose, e so sempre zitto, ma non per rispetto all'asino, per rispetto a te e ai tuoi ascoltatori. Però se la tua trasmissione diventa una delle ennesime trasmissioni, infatti io vengo da te, ma non vado ad altre trasmissioni, dove invece gli asini sono ben accolti, sono ben accolti. Ma per me sarebbe un grande piacere, Barbacetto, e se avessi saputo che tu c'eri, non sarei venuto, perché sei un incivile come già avuto a me. Allora, concludi per favore, Gianni Riotta arriva. Sto arrivando da te, Gianni, un minuto per concludere Gianni Riotta. Chiamolo Barbacetto, per favore, non vorrei che la gente si confondesse. Neanche io. Craxi, Craxi, non gli viene la battuta. Va bene, Craxi. Craxi è stato un personaggio che ormai dovremmo giudicare come Moro, come Togliatti, come anche personaggi più recenti, Romano Prodi, come anche Silvio Berlusconi. Dovremmo ormai giudicarli per la storia, che non vuol dire assolverli, ma vuol dire non portarli all'enestima tribunale. Diceva prima Emiliano, e ho finito, io ero un pubblico ministero, Albert Camus, premio Nobel, di cui ricorre proprio in questi giorni l'anniversità della morte, diceva, ricordatevi che gli storici fanno un mestiere diverso dai magistrati, non perché il mestiere magistrati non è nobile, è importante, perché è nobilissimo, è importantissimo, ma perché lo storico non deve condannare con il pubblico ministero. Allora, Barbacetto, voglio sentire cosa pensa Barbacetto, la sua replica, e poi arrivo anche da Stefano Zullio, che ha fatto un incontro con Stefania Craxi vedendo il film, che io ho letto con grande interesse, devo dire. Barbacetto. Noto la differenza tra chi viene bacchettato perché interrompe, e chi invece deve ricevere in silenzio epiteti di asino e di incivile. Non so, strano programma e strana assimmetria tra persone. No, scusami Gianni, voglio dirla questa cosa, sono due cose differenti. Da una parte l'idea di non interrompersi nulla, sono un'idea di civiltà e di buona educazione. Invece da l'asino? No, 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 appunto, dall'altra ho detto prima che non penso che bisogna assolutamente ricorrere a insulti personali, perché si possono avere, ed è molto diverso, senza mai offendersi. Ma ascoltami, io ho detto, io non interrompo, perché quando sento delle assinilità, mica ho detto che l'assinilità l'ha detto lui, è lui che si associa, diciamo, escusarsi o l'unpetita e escusarsi o la rifesta. Io volevo parlare di Craxi, mi piacerebbe tanto sentire il parere di Gianni Barbacetto sulla storia di Craxi e sul film di Craxi e sulla mia domanda, come mai non facciamo pace con la storia in qualche modo? Non facciamo pace con la storia perché la storia è ancora qui, perché le corruzioni che sono state scoperte da Mani Pulite sono ancora dentro la nostra vita, perché il debito pubblico dell'Italia è ancora figlio di Craxi, perché la corruzione che è arrivata fino ad oggi è la prosecuzione con altri mezzi di quella stessa corruzione. Allora io ho grande pietas, io il film l'ho visto, ho grande pietas per un uomo di potere, per un uomo di grande potere, che nell'ultima fase della sua vita è un uomo sconfitto, abbandonato dai suoi amici e da tutti, addolorato, dolente, malato, che si prepara alla morte. Grande pietas. Però non si può raccontare Tangentopoli obbligandoti alla pietas per lo sconfitto. Come non si può raccontare il fascismo da salò? Allora scusami Gianni, devo andare in pubblico.